Siamo giunti alla quinta. Buona moneta per tre anni sul miglio, l'uno Tabus e il quattro Terrific non corrono, ne rimangono in dieci, Tudor, Danny, Griff che abbassa decisamente il tiro, è più gettonato al totalizzatore. Galoppa, Turbo Deji, numero sei, Galoppa e il sette Terrorcaf. Via la macchina, si lotta con un Teodoro finalmente veloce in partenza alle prese con Elegance. E così l'espluacaf di Manine Dolci ha il comando. E' partito alla grande il favorito targato Danny Griff. Tredici otto in lancio e Tudor gradatamente si presenta su Teodoro. Parte bene anche la Terry Caff, poi Tenebroso. Quattrocento iniziali in ventinove e quattro. Prosegue nel suo sforzo e impegna a Tudor l'avversario Teodoro che chiaramente una volta tanto partito probabilmente vuol correre al comando. E' infatti 44 e un battito e i 600 e impiegata si deve adeguare Antonio Di Nardo e il suo Danny Griff. Lesto a prendere la scia di Tudor la Terry Caff. Mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'un minuto tondo tondo tondo, ma molto tondo. Si viaggia da 1.15, Cavalichia affronta nel penultimo rettilineo. Si va a timbrare il chilometro nell'ordine dell'1.15.2, ovvio 15.2 di frazione. Si affaccia la Terry, 500 alla meta, allunga e si distende bene l'espluacaf di D'Alessandro. Terry viene via, pochi argomenti per Tudor Deni. E la corsa di Tudor Deni finisce lì. Frazione in 14.6, 1.29.8, tre quarti di miglio. Terry Caff, tenebroso, alle presa con Teodoro, che tenta lo stacco. Viene via tenebroso, Terry allargo di Teodoro. Resiste Teodoro, regge Teodoro, non c'è più tempo. Finalmente il vero Teodoro. 1.58.9, finalmente. Ve l'avamo detto alla chiusura delle ali. Inespettatamente al comando l'espluacaf di Manine Dolci. È un cavallo che sta correndo sempre alla grande, relegando e regalando sempre metri in partenza. Una volta tanto, leader, non può mandare nada de nada. Teodoro, Terry Caff, questa è l'accoppiata di questa bella corsa dei tre anni. 1.58.9, 4.56.